Musica Giornate davvero nere per gli edifici comunali, in rapida successione tra giovedì e venerdì scorso, sono state dichiarate inagibili e quindi chiuse la palestra della scuola media Lessona, la palestra della scuola elementare De Amicis e la sezione lattanti dell'asino Lido Collodi nel quartiere Gallo Praile. In via Barolo, presso la palestra della scuola media Lessona, è se possibile ancora più paradossale, oserei dire inqualificabile. La struttura necessita di un intervento di manutenzione urgente, non solo di tacconi. L'accaduto all'asilo nido di via Pretegiani ha allarmato non poco l'amministrazione comunale e la direzione dell'azienda speciale multiservizi, che gestisce il servizio. Infatti, da verifiche in corso, effettuate da una ditta specializzata di Milano, sarebbero emerse infiltrazioni dalla copertura, infiltrazioni che potrebbero essere pericolose e mettere a rischio la sicurezza dei frequentatori dell'asilo nido. Da qui l'immediata decisione del presidente dell'ASM, Mario Corrado, di rendere inagibili i locali di via Pretegiani, comunicandolo a tutte le famiglie della sezione lattanti. L'ASM dichiara, fin tanto che non avremo rassicurazioni certe sull'esito di queste verifiche, i locali della sezione lattanti rimarranno chiusi. Certo è che se si rende necessaria più di una riflessione su quando si sta verificando, ancor più se si pensa che l'asilo Collodi è di recente costruzione e è stato inaugurato solo 5 anni fa. Ecco che, anche in questo caso, è evidente che si debba fare lo sforzo di analizzare quali siano le priorità verso le quali destinare maggiori risorse, tra quelle sempre minori, che un comune possiede. Se destinarne misura maggiore per dare dignità alle strutture comunali utilizzate dalle associazioni e cittadini venariesi o invece adoperarle per propagandarsi e per soddisfare bisogni di presenzialismo succhevoli e impropri?